Cosa ci fanno le mie scarpe con un ghepardo? Ora ve lo spiego, innanzitutto sono le scarpe che ho dato ad Arab GT. Vi infresco anche un po' la memoria, creiamo appunto queste scarpe in vera pelle di cocodrillo e Louis Vuitton originale. Materiali presi in entrambi i casi smontando una borsa. Borse di mia nonna inutilizzate, quindi ho dato, diciamo, nuova vita a questi oggetti. Spesso anche per dire che adoro Louis Vuitton e adoro il loro brand. E questi lavori con i loro tessuti li faccio per conto mio, non sono in vendita. Con quest'altra borsa Louis Vuitton ci ho fatto gli swoosh che hanno questo bordino rosso, quindi ho utilizzato appunto un filo rosso. Mai scelta fu più giusta, infatti ci stanno da dio queste cuciture, poi l'ho messa in forma e ci ho messo la suola. Suola in questo caso arancione. E già, con questo paio mi sono davvero superato. Tornando al ghepardo, insomma queste scarpe le ho date poi ad Arab che le ha portate a Dubai e ha trovato questo ghepardo a casa di un suo amico. Bellissimo, meglio le scarpe o il ghepardo? Grazie per l'inglese.